Riuscire ad addormentarsi presto è difficile per oltre il 45% degli italiani. Più del 20% della popolazione ha usato farmaci per dormire e il 10% regolarmente. Sui 10 italiani, 7 hanno sperimentato disturbi del sonno anche lievi e 9 milioni di persone soffrono di insonnia cronica, cioè risvegli multipli durante la notte. Già, e poi la mattina ti svegli a pezzi. Purtroppo sì, è un problema molto serio. Per riuscire a dormire bene ogni notte, un aiuto naturale ci viene dalla meditazione. Ah, peccato, io pensavo qualcosa di più divertente. La meditazione non ha effetti collaterali. Ecco come meditare per addormentarsi subito. Basta meditare per 10-15 minuti alla sera come ultima cosa prima di andare a dormire. Quindi preparatevi e preparate la stanza da letto, in modo che, finito di meditare, dobbiate solo andare a dormire sotto le coperte. Se dovete parlare col partner, mettere a letto i figli, svolgere qualche lavoro serale, fate tutto prima. Così poi resta tempo solo per la meditazione e il sonno. Per meditare bene e per un buon sonno servono una stanza buia, una sedia, un timer o lo smartphone. Se ne avete bisogno, tappi per le orecchie e cuffie per la musica. Se usate lo smartphone, mettete la modalità aereo per non ricevere chiamate o notifiche mentre meditate e spegnete lo schermo. La musica deve essere senza parole, solo rilassante. Si medita seduti, con la schiena dritta e i piedi appoggiati sul pavimento e le mani appoggiate sulle gambe. Con gli occhi chiusi, respirare lentamente, inspirando dal naso, espirando dal naso. Mentre meditate, concentratevi solo sul respiro. Portate l'attenzione sull'aria che entra e poi esce dal naso. Se vi aiuta, con la mente potete dire dentro e fuori mentre respirate. Oppure visualizzare il flusso d'aria che entra ed esce. Finiti i 15 minuti, andate subito a dormire senza pensare ad altro. Simo, funziona, ora noi andiamo a dormire. Provate anche voi amici e scrivetemi com'è andata. Sto creando un corso di meditazione online. Per sapere quando esce, basta iscriversi alla newsletter del mio sito. Un buon sonno è il segreto di una buona salute. Sotto, in descrizione, trovi link ai miei libri ed ebook per stare in forma e stare bene sempre. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale e il mio scopo è divulgare. Per saperne di più, leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più Trendy e Sani con Simona Vignali, naturalmente. Segui tutti i miei video, iscriviti al canale, attiva tutte le notifiche, metti mi piace e segui la pagina. Iscriviti alla newsletter del mio sito. Ti è piaciuto il video? Metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!